Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta panettone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e venti minuti circa. Gli ingredienti sono uova, zucchero semolato, burro fuso, latte, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, aroma di panettone, uvetta ammollata, candidi, lamelle di mandorle e zucchero per la superficie. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la farfalla sulle lame, mettere le uova ed azionare il bimbi per 8 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere il latte e il burro fuso. ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4 con il misurino. Aggiungere la farina. L'aroma di panettone. E il lievito. ed azionare il bimbi per 2 minuti a velocità 4. togliere la farfalla. Aggiungere l'uvetta. Aggiungere la farfalla. I candidi. Ed azionare il bimbi per 20 secondi. anti-orario. Velocità 2. Trasferire in uno stampo da panettone basso da 20 cm. spolverizzare la superficie con zucchero semolato. E mandorle a lamelle. cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 45 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciamola intiepidire e spolverizzare con zucchero a velo e servire. Torta panettone. Grazie. E alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.